Benvenuti e grazie per essere interessati al mio lavoro. Oggi parleremo di priorità in ortodontia. Nel dettaglio le parole chiavi saranno conoscenza, obiettivi, come definire ed ottenere, raggiungere in maniera predecibile i nostri obiettivi, come farlo in maniera semplice ed in maniera minimamente invasiva. In conclusione cercherò di definire alcuni concetti chiavi, ma consentitemi di partire con un'introduzione. Il Dunning-Krager Effect è una distorsione cognitiva a causa della quale la gente, generalmente i giovani, i principianti, hanno un'alta considerazione di sé e tendono a sopravvalutare le proprie capacità. Nel 1985 io ero probabilmente malato di Dunning-Krager Effect. Ero tanto poco esperto quanto totalmente inconsapevole di esserlo. Poi, col passare degli anni, la mia esperienza aumentata e con essa la mia conoscenza, oggi più o meno sono qui. E quindi questo è un momento forse ideale, buono sicuramente, per condividere con voi quello che ho imparato, quello che sto facendo ad ora, guardando al futuro con le idee un pochettino più chiare. Quello che ho imparato in tutti questi anni di ortodonzia, fatta con passione, è che noi possiamo ovviamente correggere le malocclusioni, ottenendo un'occlusione, un'estetica dentale ideale, possiamo anche migliorare l'estetica facciale dei pazienti, non solo attraverso le procedure chirurgiche, ma solo attraverso l'ortopedia dentofacciale durante la crescita. Ma quello che ho capito ancora di più è che noi abbiamo la possibilità veramente di migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti. Ci sono dei costi che dobbiamo assumerci, che spesso dobbiamo pagare per raggiungere questi obiettivi. Quando parlo di costi, non intendo solo riferirmi ai costi finanziari, ma anche ai costi biologici, che spesso sono quelli che lasciano il segno più di tutti. L'overtreatment, un eccesso di trattamento, addirittura sconfinare nel campo degli side effect indesiderati. Le complicazioni. E se devo dirvi una delle cose che ho imparato di più è che le complicazioni hanno influenzato le mie priorità in maniera enorme. Cos'è una complicazione? Vi faccio un esempio. Nel 2008 non ero così giovane ed ho incontrato questa paziente, una giovane paziente di 9 anni, che aveva un canino incluso. Il canino incluso, superiore di sinistra, aveva riassorbito quasi totalmente la radice dell'incisivo laterale, superiore di sinistra, e ho deciso di estrarre l'incisivo laterale e di portare il canino in posizione dell'incisivo laterale. Un trattamento non particolarmente complicato, che non mi spaventava quasi per nulla. Ho iniziato il trattamento a giugno, questo è lo scappucciamento del canino, e dopo pochi mesi non si muoveva niente. Il canino non accennava a muoversi. Allora abbiamo eseguito una seconda chirurgia, ho inserito degli ancoraggi scheletrici allo scopo di non perdere ancoraggio, ma ancora una volta il dente dopo due mesi non si muoveva. Nel 2010 avevo in studio, stavo utilizzando di routine un combi, che mi è stato molto utile anche in questa fase, per fare un approfondimento diagnostico fondamentale. E ho scoperto che c'era un'area di riassorbimento esterno, il nome di questo riassorbimento esterno è Invasive cervical root resorption, un'evenienza che nel 2010 era poco conosciuta, ma che nel 2013 ha trovato descrizione dettagliata in letteratura. Becker e il suo gruppo hanno dimostrato che in 15 canini affetti da Invasive, Idiopathical root external, root resorption, non c'era niente da fare. Infatti tutti questi 15 canini sono stati estratti. Bene, io avevo già estratto l'incisivo laterale, non potevo certo pensare di estrarre anche il canino, per cui ho richiesto al chirurgo un terzo intervento chirurgico allo scopo di esporre l'area di riassorbimento esterno. E il chirurgo durante l'intervento mi diceva, ovviamente io ero lì con lui, mi diceva non lo trovo, non c'è nessun riassorbimento, io gli dicevo no, lo devi cercare bene, e lui l'ha trovato. Ovviamente era proprio lì dove il convinci diceva che esso risiedeva. Quindi abbiamo, il chirurgo ha rimosso l'osso alveolare, AC fino a circa 4 mm dai bordi dell'area riassorbita, è stata eseguita una pulpectomia d'urgenza e poi è stata ripulita l'area attorno al riassorbimento, anche troppo. Il danno qui è stato fatto, non tanto nell'area riassorbita sul canino, ma sul dente adiacente, sulla superficie mesiale del primo premolare, che ha perso quasi totalmente, come vedete da queste immagini, il supporto parodontale. È stata fatta un'otturazione d'emergenza sull'area riassorbita e poi chiuso il lembo e qui vedete anche il coagulo che va a coprire in parte la radice esposta del primo premolare. A questo punto ho ricominciato il trattamento ortodontico che, potete immaginare, in pochi mesi mi ha consentito di abbassare, di estrudere il canino. Durante l'estrusione è importante agire con un torque appropriato, un torque radicolo palatale, allo scopo di mantenere la radice all'interno della busta parodontale, ma in soli tre mesi sono riusciti a portare il canino inarcata. Ovviamente mano a mano che lo estrudevo, provvedevo a ridurne la lunghezza a livello della cuspide e della corona clinica. Altri cinque mesi, il canino è quasi al posto del laterale, al sesto mese di trazione il canino diventa potenzialmente un laterale accettabile. Questa è l'immagine sette anni dopo la fine del trattamento accettabile, il canino potrebbe sembrare un incisivo laterale accettabile, tutto sommato considerato lo stress, i rischi che questo trattamento un pochettino ricco di complicazioni ha portato, ero e sono soddisfatto. Ma purtroppo il prezzo da pagare, il costo biologico è evidente nella radiografia di sinistra, una perdita importante di supporto parodontale sia a carico del primo premolare che della superficie distale del incisivo centrale. Un severo danno parodontale sui denti adiacenti prodotto anche dal trattamento ortodontico e chirurgico. Tutto sommato però sono riuscito a portare a casa questa situazione estremamente complicata e ho imparato un'altra lezione, una lezione fondamentale che applico nella mia quotidianità che è tradotta in termini espliciti, è il fatto che l'ortodontia, il trattamento ortodontico è l'unico, l'unico modo in odontoiatria in grado di rigenerare tessuti molli. Il trattamento ortodontico nell'area di tensione lascia una scia di non solo osso alveolare ma soprattutto tessuto a molle, quindi noi ortodonticamente riusciamo a rigenerare da niente a molto i tessuti molli, in questo caso non solo il margine gengivale ma anche la papilla mesiale distale al laterale. Ma siccome parlo di complicazioni, siccome l'argomento è l'ortodonzia, le complicazioni non sono finite. Questa bambina era partita a nove anni con questo tipo di assetto scheletrico e di profilo e alla fine della crescita questo è il profilo e l'assetto scheletrico di questa bambina. Una crescita totalmente imprevedibile e questa per noi è il pane quotidiano, questa è l'ortodonzia nei pazienti in crescita, la capacità di prevedere le venienze talvolta imbarazzanti anche per noi come queste. quindi la diagnosi e la previsione di crescita, quello che rappresenta a mio avviso il campo più complicato dell'ortodonzia di tutti i giorni. Ebbene oggi nel 2021, dopo quasi 30 anni di professione, mi accorgo che il vero problema è la consapevolezza di non saper prevedere situazioni di questo tipo e quindi di non poter approcciare al trattamento dei pazienti in crescita con la serenità che io vorrei. È un problema di conoscenza, quindi è importante acquisire conoscenza per poter lavorare serenamente. Come acquisire la conoscenza? Sicuramente i mentori sono la cosa più importante, i miei mentori sono stati il dottor Giuseppe Cozzani, insieme a lui il dottor Bjorn Zakrisson, sicuramente il dottor Kokic, Vince Kokic Senior, sicuramente il dottor Ron King, uno degli ortodontisti più eleganti al mondo, sicuramente il dottor Cocconi, sicuramente il dottor Moser, la dottoressa Schneider, sicuramente Bjorn Ludwig, col quale ho collaborato negli ultimi dieci anni, tutte persone che hanno lasciato il segno. Io credo che i mentori siano estremamente importanti, ma insieme ai mentori è importante mettersi in gioco quelli che io chiamo i consegni, le gare di ortodonzia, quindi presentare i casi all'Accademia di Conservativa, al Bordo Italiano di Ortodonzia, al Bordo Europeo di Ortodonzia, all'Engle Society, pubblicare quando si ha qualcosa di importante da dire e magari riuscire ad ottenere dei traguardi, dei premi, degli award che danno un senso alla nostra vita professionale. Mettersi in gioco, mettersi in gioco come sto facendo ora, quindi accettare il giudizio degli altri e ovviamente fare di tutto affinché il giudizio sia positivo, quindi studiare, studiare per poter essere in grado di gestire la competizione, chiamiamola così, ma il paragone con gli altri. E poi da ultimo ovviamente l'evidenza scientifica, l'evidenza scientifica è fondamentale. Tutti noi dobbiamo nel 2021 fare dei trattamenti che siano anche evidence based. Cosa abbiamo imparato dall'evidenza scientifica negli ultimi 50 anni? Beh, devo dire la verità, tutti questi prospetti randomized clinical trial di cui siamo riempiti negli ultimi vent'anni, io ritengo non abbiano poi prodotto così tanta conoscenza in più di quello che prima fosse già disponibile da studi classici di carattere retrospettivo. Un'altra cosa che ho imparato è che se vogliamo mantenere gli incisivi inferiori perfettamente allineati è necessaria una contenzione a lungo termine, probabilmente per tutta la vita. L'altra cosa che ho imparato è che la malocclusione non è una malattia. E l'altra cosa che ho imparato è ormai da 50 anni che continuiamo a raccogliere conferme di questo, è che se l'obiettivo è la salute paradontale, la chiusura degli spazi è molto meglio della sostituzione implantopropesica. Ma se limitiamo la discussione a quello che è l'argomento principale l'ortopedia dentofacciale nei pazienti in crescita, oggi come oggi, dopo 50 anni di ortodonzia, io, se devo essere sincero, credo che ancora non sappiamo neanche come andare a ricercare i problemi e quali problemi porci per impostare nuovi disegni di ricerca. Vi faccio un esempio, voi vedete qui due terze classi, due bambini, due maschi, uno a nove anni, un po' tardi per iniziare il trattamento ortopedico, l'altro ne ha sei, quasi sette, forse un po' meglio. Quello di nove anni è una terza classe molto severa, basta vedere il rapporto tra i canini da latte, non c'è nessuno shift mandibolare, sono due terze classi vere. Se guardiamo ai numeri, ai dati cifalometrici, sono pressoché identici, quindi è difficile assegnare una prognosi diversa a questi due pazienti. Ebbene questo è il primo paziente dopo uno solo stage di trattamento precoce, quindi un trattamento solo in dentatura mista, a destra lo vedete 11 anni, senza nessun tipo di contenzione dopo il trattamento precoce, e questo è l'altro paziente. Un altro trattamento precoce, nessuna seconda fase e questa è la crescita. Due tracciati cifalometrici quasi identici, due malocclusioni quasi identiche, che hanno prodotto una crescita totalmente diversa. Ecco, di fronte a pazienti di questo tipo noi siamo ancora impreparati, siamo ancora totalmente disarmati. Quindi in conclusione, se devo dirvi che cosa ho imparato in tutti questi anni, direi che sostanzialmente oggi noi possiamo raggiungere gli stessi risultati che ottenevamo 40 anni fa, magari in maniera più facile, grazie alle avanzamenti tecnologici, straight wire, micatitanio, ancoraggi scheletrici, il 3D, gli aligners, ma non così sostanzialmente diversi di quelli che ottenevamo 40 anni fa. Nel 1988, quando ero tanto inesperto quanto coraggioso e presuntuoso, ho trattato questo paziente che aveva un ponte di sei elementi a causa della perdita di due incisivi centrale e laterale superiore di sinistra, ho eliminato gli elementi di ponte, le due corone, e ho chiuso gli spazi. Canini al posto dei laterali, il premolare al posto dei canini, il laterale al posto del centrale di destra, il centrale di destra al posto del centrale di sinistra. non solo la corona, anche la radice, oltre la linea mediana facciale. L'ho fatto nel 1988, si può fare anche oggi, e in quel momento ho capito che l'ortodonfia è qualcosa di molto più potenzialmente utile che non semplicemente la correzione di una malocclusione. Ho capito che possiamo non solo trasformare una grande sella e dentula in una papilla, solo mediante il trattamento ortodontico, ma anche possiamo rimodellare il profilo paradontale semplicemente per mezzo dei movimenti di intrusione ed estrusione ed ottenere un livellamento ideale dei margini gengivali. ci volevano anni, ci volevano 2-3 anni, allora oggi ci mettiamo molto meno. Per cui un caso simile, forse un po' più facile, oggi può essere trattato in maniera molto più efficiente, non più efficace, ma molto più efficiente. Il risultato è uguale, ma ottenibile in maniera migliore, con un rapporto costo-beneficio migliore. 2014 ho deciso di chiudere lo spazio in maniera asimmetrica, quindi solo nell'emiarcata superiore di destra questa paziente, portare tutte l'emiarcata in avanti allo scopo di chiudere lo spazio senza dover ricorrere a una sostituzione protesica, quindi due impianti nel palato, impianti temporanei, un manufatto di laboratorio adeguato per mesializzare tutte l'emiarcata superiore di destra, avendo un ancoraggio massimo nell'emiarcata superiore di sinistra. Senza parecchi nell'arcata inferiore, in dieci mesi. Senza parecchi nell'arcata inferiore è possibile, senza perdere ancoraggio, fare un movimento che sicuramente 30 anni fa sarebbe stato impossibile da eseguirsi con la stessa facilità. Dieci mesi per chiudere lo spazio, ma altri otto mesi per la finitura ortodontica che bene o male anche oggi richiede l'attenzione e la dedizione e le ore di lavoro e di mesi che erano necessari 30-40 anni fa. Alla fine del trattamento l'incisivo laterale è diventato un centrale, il canino è diventato un laterale, il premolare è diventato un canino, ma questo era, ripeto, possibile anche nel 1970. il trattamento è finito prima dell'adolescenza, questa paziente non deve aspettare la fine crescita per avere la sostituzione protesica e tutto questo può essere effettuato in maniera più rapida, più efficiente, ovviamente alla ricerca non solo dell'estetica, ma della salute parodontale. e quando c'è un dente naturale, una radice al posto della vite, dell'impianto, la salute è sicuramente dimostrato essere migliore nel lungo termine. quindi tre anni dopo la fine del trattamento, come è evidente in letteratura, come è stato dimostrato in letteratura da almeno quattro lavori nel lungo termine fino ad oggi, la salute parodontale è fuori discussione. come definire ed ottenere in maniera predecibile i nostri obiettivi? questa è una ragazza di vent'anni, una seconda classe subdivisione e manca ancora una volta il canino superiore di sinistra. il canino superiore di sinistra è incluso, impattato, trasposto tra il laterale e il centrale. seconda classe subdivisione di tipo 2 significa che c'è una deviazione della lina mediana superiore e con essa una migrazione mesiale dei denti posteriori dell'emiarcata superiore di destra. c'è una demineralizzazione dello smalto, una MIH, un rischio di carie superiore alla norma sui molari permanenti e la necessità da parte mia in un paziente fragile di definire in maniera precisa gli obiettivi del trattamento non solo definirli ma raggiungerli, non solo raggiungerli, raggiungerli in tempi rapidi. quindi ho deciso di estrarre alcuni denti, il canino incluso, tutti i molari permanenti ed anche il premolare il primo premolare superiore di destra estrazione del quale mi avrebbe consentito di centrare la linea mediana già nella fase iniziale del trattamento, nei primi mesi per cui già dopo pochi mesi di trattamento, tre mesi di trattamento la linea mediana è centrata grazie al fatto che ho definito il mio obiettivo centrare la linea mediana con freddezza e consentitemi con un po' di coraggio ho estratto anche il premolare per poi mesializzare i settori posteriori per mezzo ancora una volta di un ancoraggio scheletrico palatale. questa è la fase di finitura dopo 20 mesi il trattamento era pressoché finito ma purtroppo i denti del giudizio inferiori non si sono raddrizzati spontaneamente ho dovuto pensarci io per cui sono serviti altri 5-6 mesi di trattamento per arrivare alla fine con un'occlusione corretta nei limiti della norma è una buona stabilità occluso articolare è un buon display estetico senza necessariamente perdere ancoraggio nei settori anteriori senza necessariamente appiattire il profilo come ben vedete l'angolo interincisivo non è minimamente peggiorato chiusura degli spazi per ottenere in tempi rapidi anche grazie all'estrazione del premolare superiore di destra la correzione della linea mediana è un'occlusione corretta il più velocemente possibile definire i nostri obiettivi e raggiungerli più velocemente possibile talvolta richiede un po' di coraggio ma noi lo possiamo fare questo è il restauro che la dottoressa Patrizia Lucchi ha eseguito sul 2.4 sul premolare superiore di sinistra per farlo diventare un premolare per trasformarlo in un premolare tre anni dopo la fine del trattamento la semplicità le cose semplici non sono cose facili la semplicità non è sinonimo di facilità questo me l'ha insegnato un caro amico il dottor Moser e la dottoressa Schneider, sua moglie semplicità vuol dire saper scegliere la strada meno ricca di ostacoli essere minimamente invasivi è quasi un sinonimo questi due obiettivi sono ormai per me gli obiettivi principali nella mia attività ortodontica quotidiana e riesco a raggiungere questi due obiettivi al meglio quando tratto i pazienti in dentatura mista quando riesco ad assegnare una diagnosi corretta e a selezionare i pazienti in maniera ideale il trattamento in dentatura mista spesso è il miglior investimento che noi possiamo fare è il miglior investimento che facciamo non solo noi ma anche i pazienti e i loro genitori questo bambino ha sette anni e mezzo è una terza classe lo vedete a livello del rapporto tra i canini da latte è una terza classe iper divergente diciamo che è la malocclusione che tutti noi non vorremmo trovarci davanti agli occhi quando i bambini sono così piccoli perché sappiamo che la crescita potrebbe essere molto penalizzante ha un palato stretto ha un morso inverso anteriore non c'è shift mandibolare è una terza classe vera c'è affollamento nell'arcata superiore non c'è spazio per gli incisivi laterali quindi espando espando rigorosamente senza toccare i denti permanenti bande sui denti da latte sui secondi molari da latte appoggi sui canini da latte per fare spazio per gli incisivi laterali i quali rompono in seguito all'espansione del macellare superiore e dopo due anni dalla prima osservazione sono ben inarcata sistemati ben inarcata passa un altro anno e inizia la seconda fase della permuta gli incisivi sono testa a testa ancora quasi in morso inverso molti ortodontisti a questo punto pensano che è necessario espandere l'arcata superiore allo scopo di rimettere il coperchio sulla scatola quindi espandere il macellare perché è una terza classe invece quello che noi dobbiamo fare ancora una volta è assegnare una diagnosi fare una previsione di crescita per fare questo è necessario avere un'altra teleradiografia saper fare una sovrapposizione corretta definire la direzione di crescita mettere in atto l'apparecchio più importante che c'è che è il labbro inferiore che appoggia sugli incisivi superiori quindi mia terapia funzionale e poi ancora una volta anziché cadere nella trappola del seguire i bias i pregiudizi le cose ovvie per tutti anziché espandere l'arcata superiore fare delle estrazioni seriate i quinti sopra i quarti sotto e dopo sette anni dalla prima osservazione il tempo di osservazione è lungo inizia la fase più bella del trattamento quella in cui voi vi godete il risultato senza toccare i denti senza parecchiature facendo crescere questi bambini con i denti dritti questo è il trattamento che noi vorremmo fare ai nostri figli farli crescere con i denti dritti senza toccarli e nel picco di crescita tutto diventa ancora più magicamente efficace e a fine crescita ora il paziente ha 25 anni è un ingegnere ed ha un'ottima competenza labiale un buon profilo un buon angolo interincisivo un limite anteriore della dentatura ben posizionato ma soprattutto 12 anni fuori da qualsiasi tipo di contenzione alla fine del trattamento precoce senza aver mai avuto una seconda fase di trattamento ha un'occlusione assolutamente stabile e ottimale non solo da un punto di vista estetico non solo da un punto di vista occlusale ma anche da un punto di vista funzionale c'è una stabilità occluso articolare ideale partendo da una situazione decisamente preoccupante far crescere i bambini non solo a livello dentale ma anche a livello estetico nel miglior modo possibile senza toccare i denti permanenti senza collaborazione questo è credo il modo migliore per onorare il nostro lavoro lasciare che i denti permanenti rompano spontaneamente all'interno della busta parodontale e facilitare fare in modo che ci si sviluppi un rapporto intermacellare ottimale nel contesto di un equilibrio funzionale muscolare ideale qual è la conclusione di questa breve chiacchierata? sicuramente le priorità sono chiare da definire conoscere, studiare non solo studiare ma mettersi in discussione e mettendosi in discussione essere costretti a studiare ancora di più imparare dai propri errori e da ogni errore che facciamo trarne un insegnamento per evitare di cadere nella trappola un'altra volta definire in maniera precisa i nostri obiettivi significa anche raggiungerli in maniera predecibile privilegiare tutto quello che è semplice perché già il nostro lavoro è difficile già dobbiamo affrontare decisioni difficili almeno le procedure ebbene siano le più semplici possibili allo scopo di produrre risultati ottimali in maniera minimamente invasiva l'ortodonzia è un lavoro bellissimo è una sfida quotidiana ma è anche uno dei pochi delle poche professioni mediche che ha un grande privilegio rispetto a tutte le altre quasi tutte le altre discipline mediche noi trattiamo dei pazienti sani e purtroppo a volte il nostro trattamento che rischia di farli perdere la salute quindi essere consapevoli di questo e guardare al futuro con ottimismo prevenire overtreatment e complicazioni è la mia priorità quotidiana la paura di sbagliare è il sentimento prevalente in tutta la mia giornata di lavoro e quindi sempre di più devo imparare a fare diagnosi e a fare dei piani di trattamento ottimali e ancora di più mi devo sempre ricordare che non sto trattando una malocclusione ma sto trattando un paziente una persona un bambino che sta crescendo e che con me potrebbe ripeto fare il migliore investimento della sua vita ontoiatrica quel è il messaggio che posso lasciarvi prima di concludere un messaggio molto semplice e la malocclusione non è una malattia per cui l'obbligazione professionale che noi abbiamo è sicuramente l'estetica ma ricordiamoci che il recinto la cornice entro la quale dobbiamo lavorare è la salute che rimane ed è assolutamente la nostra priorità con questo messaggio vi aspetto per i prossimi approfondamenti sempre qui su Osteocom e vi ringrazio per essere stati con me e vi ringrazio per essere stati con me e vi ringrazio per essere stati con me